Grazie 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 Fondo bianco! Le braccia sono tutte, ti aspetta. Ma le braccia è fianco. Io non c'è il bianco. No, scioglie. No, fondi jump. Ma anche? Ma perché a finire le formazioni, non c'è quella. E' a dire la mia piaccia. Ma quanto discone quella donna? Ma che fa discone? Si può spiegare il portaggio, non è troppo concentrato. Sì. 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 Grazie. Grazie. Andiamo! Andiamo! Andiamo per 60, su! Vediamo a mettere 60, come non cunziamo. Ah! 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 Sono delle gambe fortissime. Potrei su 50 condizionatori alla volta. Cazzo, andava due bombole da gioco alla volta. E l'embeveta, eh? Andava su. Per che scazza. A tre piani alla volta, Kiga. Porto Kio, si vero. Sì. 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 Madre, fanno male 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.